Cinque escursionisti sono stati messi in salvo nel parco della Gola Rossa, ma purtroppo c'è una vittima. Si tratta della loro guida alpina. Una domenica di terrore ad alta quota, più precisamente al foro degli Occhialoni nel comune di Genga. In questo paradiso naturalistico il gruppo di appassionati di montagna aveva deciso di fare un'escursione per cercare un po' di refrigerio, ma la gita fuori porta si è trasformata in tragedia. A lanciare l'allarme due dei cinque ragazzi della cordata che camminavano poco più avanti nel sentiero. La giovane guida, rimasta vittima dell'incidente, avrebbe perso l'equilibrio precipitando nel burrone. Un volo di 200 metri nel vuoto che non le ha lasciato scampo. L'allarme è stato lanciato in mattinata al numero unico emergenze del 112. Da Fabriano è decollato Icaro II che ha perlustrato la zona per rintracciare il disperso, un uomo del quale non sono ancora state diffuse le generalità. Il suo corpo è stato purtroppo rinvenuto dai soccorritori senza vita e poi recuperato. Da terra nel frattempo sono arrivate anche le squadre del soccorso alpino e speleologico per il recupero di altre due persone rimaste sul crinale. La cordata era composta in tutto da cinque escursionisti. Gli altri tre sono stati portati in salvo con l'elicottero dopo essere stati verricellati. Diversi turisti che hanno seguito le fasi del soccorso con il fiato sospeso.